5 palmi per Capitane Colombo eccolo qua Alessandro Ferri contro Andrea Ferri Bassani, ottimo ribaltamento di lato Bertoglio aperto da 3 punti c'è il tentativo di anticipo di Ferri su Fabio Bonora, Bertoglio, Colombo bella circolazione di palla nell'angolo Ale Ferri da 3 punti si alza tutta la panchiera di meno 3 5 Mattias Foresti cerca il recupero immediato Mazzanti lo aiuta ma Colombo elude il raddoppio, palla sotto pera Giocondo che finta al tiro non può sbagliare e infatti non sbaglia però è difficile vedere che entrambi tirino corto mezzo metro qua gran movimento di Peppe Giocondo questo è il Peppe Giocondo ed esco perché la differenza più o meno sta lì, intanto palla recuperata da Nicola Bertoglio prova ad andare in contropiede Giocondo ancora Bertoglio palla per Fabio Bonora bella circolazione che poi porta il canestro Dian grazie a tutti grazie a tutti